Tutto pronto, quasi, per il Comacchio Beach Festival. L'evento musicale quest'anno diventa anche portavoce dei valori del Mabunesco in occasione del Forum Internazionale dei Giovani che riunirà migliaia di persone a settembre nel Delta del Po. Come ambasciatore della riserva della biosfera, non a caso, è stato insegnito Antonello Venditti, grande protagonista della prima delle due serate, in programma venerdì 2 giugno a Porto Garibaldi. Sabato 3 invece l'evento sarà caratterizzato da diversi artisti, quali Paola Turci, Mario Venuti, Sergio Silvestre, Giovanni Caccamo e Deborah Iurato, con la conduzione di Paolo Ruffini. E proprio sabato 3 sarà possibile seguire la finale di Champions League Juventus-Real Madrid sulla spiaggia di Porto Garibaldi, grazie a tre mega schermi a LED ed altri due di dimensione minore. La realizzazione del grande palco è quasi completata e permetterà anche quest'anno di godere dell'imponente evento che apre la stagione estiva del litorale comacchiese.